C'è chi le vede come due entità separate e distinte, ma in realtà la ragione e la passione sono indissolubilmente legate. La passione serve a difendere la ragione. Non basta infatti avere ragione, bisogna difenderla appassionatamente. E' questa la frase che spicca nella quarta di copertina di ragione e passione contro l'indifferenza. L'ultimo libro di Vittorio Sgarbi che l'autore ha presentato ieri sera alla Sala Smeraldo dell'Hotel Calabresi di San Benedetto. Difficile raccontare Sgarbi in poche parole, critico d'arte, politico, scrittore e attualmente assessore alla cultura di Milano. Il professore ha sempre spiccato per il suo stile tagliente, mai banale e spesso politically incorrect, che l'ha consacrato però come uno degli uomini più brillanti d'Italia. L'incontro di ieri, organizzato dalla libreria La Bibiofila di Mimmo Minuto, è stato introdotto dalla giornalista del Corriere Adriatico Antonella Roncarolo. Un'occasione per vivere in prima persona quasi due ore di Sgarbi Show, alla ricerca della cura per un male tutto italiano, l'indifferenza. L'indifferenza è in realtà l'idea che le cose comuni non ci appartengano e quindi i beni della natura o della bellezza siano cose che riguardano lo Stato, il comune. Quindi è evidente che dal tema delle tasse che viene affrontato semplicisticamente con una riduzione giusta, dove si diano soldi a uno Stato che li spende male, ma all'idea che invece, paro a Schioppa o ad altri, abbiano detto che le tasse sono belle, c'è in quella frase, anche sgradevole, il concetto che noi dobbiamo partecipare con una parte di quello che è nostro al bene di tutti, che è anche il nostro, quindi dalle strade ai monumenti, alla pulizia, tutto questo ha bisogno di qualcuno che se ne occupi con i soldi di ognuno di noi. Allora l'indifferenza è pensare che uno si tiene il proprio e non si preoccupa di quello che è proprio in quanto è comune. Un libro che è una sorta di compendio su ciò che si perde nell'indifferenza dai luoghi comuni dell'Italia di oggi, delle ideologie vigenti alla pulizia mentale che nutre i conformismi. Dalla nuova politica di destra e di sinistra alle lobby di potere, portatrici di ignoranza. E infine nel libro non poteva mancare una parte tutta dedicata all'arte, è qui che il suo linguaggio si eleva al massimo e le parole diventano delle corpose ed eleganti pennellate.